Il capolavoro di Bioware sta arrivando. Presentato allo scorso E3 di Los Angeles, Dragon Age Inquisition pare convincere anche quelli che erano rimasti un po' scottati dall'episodio precedente. Un cambio di rotta per il franchise, anche se i fan vorrebbero molti più info e molto più spesso. Dragon Age Inquisition è il nuovo RPG firmato Bioware e sarà disponibile il prossimo autunno su PC e console, old e next gen di Microsoft e Sony. Il gioco si pone come un chiaro compromesso fra il primo e il secondo capitolo, cercando di ampliarne i connotati con interessanti novità. Il gioco ha suscitato grande scalpore allo scorso E3, fomentando le aspettative dei fan. L'ambiente si rifà ad un fantasy riconoscibile, dominato da una guerra millenaria fra due fazioni, con l'inquisizione del titolo istituita per sedare tale conflitto. Il gioco sarà formato da un incredibile apparato narrativo, figlio di diramazioni diverse e scelte a discrezione del giocatore. Più di 40 saranno i finali disponibili, mentre le scelte operate nei capitoli precedenti saranno richiamabili tramite un sito internet. Inquisition miscela part action e tattica in un'unica soluzione. Durante i combattimenti sarà infatti richiamabile una pausa tattica, per posizionare i compagni del party e decidere le strategie più appropriate. Il nostro personaggio potrà spaziare fra quattro classi, umano, elfo, nano, kunaro. Grazie al Frostbite 3, Inquisition garantisce un colpo d'occhio eccezionale ed una profondità di dettagli mai vista su console old gen. Il team ha già promesso 40 finali differenti. Il gameplay è action, ma con la possibilità di attivare una pausa tattica per impartire gli ordini ai propri compagni pare davvero solido. Il bilanciamento inoltre sembra fondamentale, al pari del livello narrativo. Dragon Age Inquisition sarà disponibile il prossimo autunno su PC, Xbox One e PS4 e chiaramente anche su console old gen. Dragon Age Inquisition